ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario sure of supplement informazioni commerciali titolare chi fa srl concessionario chi fa srl confezioni sure of supplement secchiello 1,277 kg formulazione biotina 700 mg l lisina 4.400 mg dl metionina 2.650 mg calcio 35.000 mg indicazioni difetti nella forma dello zoccolo nella consistenza e spessore della muraglia e nella velocità di crescita della parite cornea rendono la vita difficile sia al cavallo che al proprietario non capo piraita al maniscalco analizzare le cause di questo problema non è facile per capo piraita molti fattori possono influenzare la qualità dello zoccolo come ad esempio la genetica il sesso l'età la stagione la gestione della lettiera e la tipologia il lavoro le ferrature la circolazione in corona ma soprattutto l'alimentazione proprio a riguardo di quest'ultimo punto bisogna ricordare che quel che conta alla qualità dell'alimentazione e non la quantità infatti talvolta la somministrazione di 2 o 3 kg di fieno di erba medica in sostituzione alla stessa qualità di fieno normale a sufficiente per avere un miglioramento nelle situazioni più difficili tuttavia può essere indispensabile un'integrazione con microelementi essenziali talvolta carenti nella normale dieta di un cavallo come bliotina metionina lisina e calcio sure of a specificatamente formulato per sopperire a queste carenze in quanto in grado di fornire quotidianamente i giusti quantitativi di bliotina unitamente agli aminoacidi essenziali lisina e metionina la lisina contenuta nello sure of a un aminoacido solforato fondamentale per la formazione della cheratina struttura portante della scatola cornea dello zoccolo la metionina invece ha un altro aminoacido solforato utile nell'assorbimento della biotina posologia il misurino incluso nella confezione contiene circa 30 g di prodotto miscelare sure of al mangime alle seguenti dosi cavalli adulti 1 misurino barra giorno 30 g pulibri lattanti barra svezzati ponies mezzo misurino barra giorno 15 g cavalle gravide barra allattamento due misurini barra giorno 60 g lasciare agire per tre minuti quindi risciacquare a fondo fino alla rimozione totale del prodotto e dello sporco rimuovere l'acqua in eccesso e far asciugare il cavallo come desiderate fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato